E' questa la sensazione giusta che si deve provare, ma anche le azioni da compiere quando c'è la visione nazionale, quelle di saltare, salta da un lato all'altro, scatenati di neve, ti fa vedere che il ritmo ce l'hai nel sangue, bello! 3-7-8, per questo è la processione giusta, proprio per farci sapere se volete questo ritmo nel sangue, sentiamo un vocale. Ciao, benvenuti, seguendo, buonasera a voi. Buonasera a voi ragazzi, con lo capito, dopo una canta, che come vi fare? Non so di lungo e ballate, anche perché altrimenti non potete fare, non potete fare il caldo. Quindi un passo grande, una discoteca nazionale, che voi 3-7-8, 3-7-8, 5-2-5, dove siete conti in questa nottata, fatelo sapere la radio, ci sargiamo di presentare un microfono, non so, non so, questa è la prima parte della discoteca nazionale, che si chiuderà una, e che è la versione in la pizza. Hai capito? Senti, 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 ha tirato fuori le pentole. South Parkour fa questa cosa, fa impazzire veramente tutti. Senti, 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 senti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti